Stanco dei soliti colori? Scopri la pasta colore Mitama, l'unica che si trasforma in colore! Crea il tuo colore, dagli la forma che vuoi! Lascia seccare, il gioco è fatto! Con Colore Number Lab il numero 3 colora! E con Circus Lab anche un pagliaccio diventa un colore! A Natale regala la creatività a Mitama! Mitama, poteri al colore!